Sturrusia! Bene ragazza, la porto a mare! La porti a mare, bene! La porto a mare! Ecco, Sturrus a riestimo! Prego, prego, prego! Piano, piano! Gerocio! Sturrus, scusa! Ecco, ecco! Noi fare tuffo con nostra ospite! Nome della nostra ospite! Com'è? Aspetta! Oriella! 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 Però prima preparare Ornella! Levare scarpe? Leviamo le scarpe! Leva le scarpe! La stai massacrando! Lei sta reagendo sugli Sturrusi! Che sta facendo? Aia! Ha qualcosa da dire per... Dica qualcosa per gli Sturrusi! Madonna! Braccioli da 0 a 3 anni! Ecco qui! Signora con braccio... Un po' di rispetto per gli oggi! E' il pubblico! E' il pubblico pagante! E' il pubblico pagante! Ecco saliamo! Saliamo! Piano piano! Ecco, salire qui! La testimonianza prima dell'ultima volta! Prego! Signora cosa vuole dire? Aia! La pagata! No, lei ha pagato! No, lei ha pagato! Signora! Signora! Ornella per favore! Madonna! Saltiamo assieme! Come che deve fare? C'è il pubblico! Al mio tre! No! Cioè al vostro tre! No! Quindi che siamo? Uno, due, tre! Uno! Due! Tre! Madonna! Applauso! Signora Ornella! Vieni, scappa in noi! Come... Vuoi commentare un attimo questo? No, grazie! No comment! No comment! Si giri perché il pubblico è dall'altra parte! Se ci dai molte cose poi te ne vai! Ecco, noi continuiamo serata! Porta di braccioli! Noi ci prendiamo le scarpe! Gli occhiali! Prego! Aspetta! Lei e la signorina? Un applauso a Oriella! Che stai facendo? Che stai facendo? L'accompagna un po'! Gli strurosi! Stasera vi distruggeranno, io ve lo dico! Stasera! Bene! C'erano le scale, però vabbè! Ma sì, dai! E' stata! Che cos'è sta cosa? Dai, andiamo avanti! Allora! Ecco! Già... Già sono stanco io praticamente! Bene! Signori, adesso presentiamo un grandissimo personale! Bravissimo! 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 Claudio, ti presenti solo? Che dobbiamo fare? Compà! Vai, vai, vai! Allora! Allora! Lui fa parte delle malerbe! E' giovanissimo! Magro da fare schifo! Un grandissimo monologhista! Attore! Cabarettista! Ave tutte cose into! Me l'ha detto lui di dirle queste cose ovviamente! Signori! E' qui con noi questa sera! Un grande ritorno! Claudio! Castista! Dov Terci più grande ritorno! Suorlo difisi del bestial... suorlo il fisico... uirà. Spp- Spp- e una sera! Suorlo il fisico era! Suorlo il fisico il bestiale! Ripeti questi muscoli? No Manco io Allora una volta e per tutte Lo dico anche qui al Palazzo Steri Io, Claudio Casisa, non sono macro Sono diversamente muscoloso E poi io non è chiacchietto assai Tutti avete B-C-B-D-C-C-B Io un cibi di solo vorrei e basta E poi io sono macro per una questione politica Me l'ha detto il dottore Dice questa è Costituzione Però insomma cambiamo discorso Anche perché non mi piace parlare degli assenti Invece questa sera vorremmo parlarvi Di tutti coloro che fanno parte